io non ho capito se stiamo andando nelle fogne sopra le fogne fa ok pare teoria si dato cioè in barra vabbè ma te puoi craftare il stile do madre si qua tutto tranne motiva aspetta che ti dico quale per la staffa tutto il fatto il fatto il fatto il fatto stoffo per un altro la staffa non ce l'ho tutto il resto ce l'ho grazie forse ci vogliono in banca motiva ho contratto ora vediamo aspettato a te lo regalo fai scherzo ma c'è una banca c'è la 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 banca chi ha grato il boss? non lo so c'è una banca c'è' così іт se qui nemmeno noi c'è una banca c'è lì non è mai perché è la banca c'è la banca c'è il boss Sì, 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 sì Ah, così piano di... Che cazzo di ore ci sono? No, i gnorri Allora, secondo che cambiamo anche... Tu Dima sei stan, è vero? C'è un di cappa magica, io diravo Non senti i piccolini? Eh, sì Rosso, rosso, rosso Rosso è dietro di voi Dove? Eccolo! Doverino, non senti rendi conto dove sei arrivato Oh, vero, vero Non si chiamava? Veris... Dai, andiamo, va L'ho arrellato E vedendo quanti siamo non torna qui È quello che... Stavo insommendo prima Avevo preso un po' di terra No, cazzo Questa è tutto bloccato Oh, scusate il giro, poi È il Twitch, anche quello, morte in diretta qua C'è una cesta, raga, c'è una cesta Guardi qua la... la morte in diretta qua Oh, oh yes Ah no, quelli scompaiono, raga Il giro è stato tutto non capisco Stavo lì, l'ho angalo Stavo lì, l'ho angalo Stavo lì, l'ho angalo Non c'erò Per un giro Era crashata C'è un solo drummue, tra boots Non c'erò, l'ho La staffa Si vuole una mappa del tesoro a distorsi, ma cai? Io lancio le me, butto le... Ma prendi tutto! Come si chiama? Chiama raga? Io spero di arrivare Ma che è successo Carlo? È crashato su tutto e era rimasto bloccato Possiamo girare dall'altra parte e c'è uno crashato Vedi le passate, destra o dritti? Guarda la mappa Non viene guarda la mappa, siamo dati più o meno dritti Ma è venuto E adesso secondo me c'è un altro, questo Dai dalla base a dritti, a destra non c'è niente Questo a destra Questo è il nostro decay fragment Minchia non sai quanti rifornimenti sto facendo Devono aprire a VGT e altre porte Quindi l'imperial Great Cosa servono in che hai fragment? Delle casse Aspettiamo trovate le casse Che siamo tanti, abbiamo poche telva in tasca Tanto va Magari ritorno e gli diamo No vabbè ma questi sono i bossetti Ahhhh User entered your channel Del frozen Ma questi? Sì allora Ho questo lì Ciao ragazzi Ciao Ciao Vieni Stiamo facendo imperial city Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Anzi adesso ti domando cosa vuoi fare, magari ci uniamo, ok? Lo vedo. Ma sono morto, ma perché sono morto? Anch'io mi ero fermata, non vedevo nessuna OE. Ma nemmeno io non sono riuscito a curarmi, boh, non ho capito, va bene, ma un culo, 600 talvar così, va bene. Ne avete già 600. Ok, sono partito con 1000. Ah, volevi moltiplicare. Vabbè sì. Davidità. No, non si può evocare qui. Ah, no, qui non si può. Ah, non si può tornare giù. Mi si è bagato il personaggio. La prima volta di problemi, è bloccato. No, che si è ripiegato. Ma ma stavo muovendo da solo. Troppato viola. No, non so cold. Facciamo del posco in fondo. Non ci siamo. Non abbiamo avuto. Davvero per parte il corridoio. Non ci siamo. D'entrappato. No. No. No, non... No, non ci siamo. A me? Prima di fare anche il boss, eh? Beh, non è nì Dentro il corridoio, sì Qui facciamo magari gli achievement Possono fare... Ah, è qua La chi sta? È il formato, la piattaforma Generale Zammaka Eh, scusa Eh, ma stai facendo tank? Beh, no Ma tanto sono questi Tank PvP Adesso ho 7 che usano PvP Magari sui boss decidiamo Chi mette il taunt, però Che così almeno... No, io non ce l'ho il taunt Però ho visto che aveva attaccato me Ah, visto che c'è Dima Eh, io ce l'ho pure il taunt Sai perché? Perché come magica Faccio tutto avrò avvicinato, quindi No, ma il senso che voi Tanto c'è il set di suo Pv e io Eh, infatti, visto che Dima è in set Pv e tank Facciamo tank lui a questo punto E noi, voi fate altre cose Fate di male Sì, sì, sì Che non è male in realtà Su questi qui avere anche il tank Anche lì abbiamo danno Paglio Ce l'hanno, dai, vado Ma tu è bellissimo questo arco È un arco normalissimo Ma cosa serve? Un bel portale Ci sparpagliamo però ragazzi Se va a prendere una cazza Aspettiamo un attimo Niji smetti di correre Ma come voi avrebbe detto Seguire la sua romana E' una grande usata Hai detto il mio pg Ma cazzo fa correre Sto massimo di lardo Ragazzi Posso chiedervi un favore C'è H che è entrato Per la prima volta Ok Solo un secondo che c'è il portale aperto Appena si chiude Chiude per me Chiudo Un secondo solo Che andiamo in permesso Grazie mille Grazie mille Akatosh Ah Niji aspetta Niji Edo? Edo? Sì Edo Edo? Davvero? Ecco Edo 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 Dovrebbe sentirti Edo 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 Benvenuto Povero Povero Si sente o no? Si sente o no? Si 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 sente Ah fantastico Buongiorno No Edo Ti ricordi Chi ti è offeso Te lo ricordi? Dimma Ricordatelo Ricordatelo Che farai pagare No aspetta Ti riferisci A chi mi ha modificato la nota Non lo so Non lo so Allora i miei sospetti sono Supergoglio Che mi ha detto di no Psyco Che mi ha detto di no Quindi rimane Psyco Rimane Dima O rimane Dima E' Franco E' Franco Siamo qua su Assyro Voi E' loro sono giù a Imperial Siamo nelle fogne Però siamo su Spellbreaker eh Ah Tu sei già dentro a True Flame Edo No io non so neanche dove sono in realtà Come campagna Perché stai fermi tutti là? Quindi te vanno avanti Ale tu corri avanti non lo so Cosidere che io 5 min 7 minuti 10 minuti sta a corpo Sei là E' passare Stattare giù a prendere il tunnel E' vigni un po' dai a Siro dopo Per il segno Ma' la campagna non ha capito Inflame E' mancare con un'unico Ma' veder Earth no e tant'è ma non ci vai lo stesso il modello ci metterai poco per me se hai sotto i cinque vittima cittadino perché ossia la campagna che è la carta prevo devo spostare uno dei due e quindi direi che ha sposto per break sto facendo riparando la cassa con il modello vabbè ma tu sai chi è che mi ha messo prima? allora quando sono entrato sono stato messo a membro poi qualcuno mi ha messo a recluta e ora qualcuno mi ha messo a veteran ah si? non lo so beh ti diceva molto meglio comunque no perché una volta mi ha sbagliato a fare un paio di cose allora ragazzi ho messo a recluta è stata un'emozione ragazzi perché correte cazzo? cazzo da qui cazzo da qui e quindi corriamo senza ridemmi poi stiamo andando a bianco ma cazzo no perché era la parte sbagliata non è perché dovevano andare dentro di lato e ci andiamo a prendere l'altro sky shard perché non siap se ne frega di andare a fare mola e dai ho capito ma la metà della gente qui non ha gli sky shard e dove erano gli sky shard e io non li vedo gli sky shard non ci li ho segnati in mappa li ho già presi Sopra, sopra, salite le scale In realtà praticamente il filtro visualizzato anche SkyShard presi Ok, aspetta che lo imposto allora Per persona Ok, sono a True Flame Ok, adesso li vedo Allora, adesso vieni a Brickers e scrivi O facciamo un gruppo per voi o se lo scrivi agli FG C'è anche di zona Non mi fa il culo Ah, è quello cretino di prima Ah, è quello cretino di prima E vediamo se ci gruppano insieme Manche un po' di mobili Ah, aspetta Andre, non sto capendo la faba Devo venire quindi a Brickers No, no, dove... quando entri Scrivi su LFG Ok, ma è quella che ha fatto Un po' di mobili Un po' di mobili Un po' di mobili E dove hanno messo il segnalino, ok? Ecco, io vieni Ci hai colato un po' E poi sono misere Fali venire giù qua per favore Ci spostiamo raga, Nat Così non vi rompiamo le scale Spero, ma... Ah, ok Non so se ti ha sentito il colore Ci sposti Eh, do su, lato... PPP, lato... Ok Ok, da troppo... Raga Ah non vi seguo lì va bene Allora venite su voi se non vi seguo lì Restate Comunque Gustavo un paio di sciarro ogni tanto Fate lo scendere giù Sono di 3 terre Sono morto nel culo Eh dipende di chi sta tangando lui però Mi stanno a morire adesso Guarda Forza io Stai arrivando Adesso lo porto giù Oh alleluia Buono Mamma mia quante ore Siamo morti miseramente Eh almeno Una posizione un po' infame Dai che adesso Venga bene Oh shit Non vi Eh adesso Adesso infatti sta morrendo male Oh Buono Tutti visi 108 terre 110 Perché sei bretono No Sono imperiale Ok Eh 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 Poi il bretono Il bretono Il bretono Mi puzza Andiamo Rosse e gialli eh Sì là Sì va Che cazzo è fatta Ho sbagliato la strada Aspetta 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 che guardi Giù 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 dal corridoietto Vai Giù a destra Ok Chià Sì a Skyshire qui vicino Lo dica Che così Questo Quando c'era una dopo Non proprio Sì a Skyshire Tu E' Sì a Skyshire E' il portale, il portale aperto, dico... Ma i tank ti hai sconso da via, però anche l'item? Ma no, se puoi. Solo heavy. Beh, puoi fare anche pure l'angarmi, però guardando le... Ma come? Non so, onestamente, la prossima patch è in light che riesce a consumare molta meno stamina, molta meno magica per le skill. Magari un pezzo. Perché hai... No, comunque perdi un sacco di vita e di... E di... Passive che... Quali set vanno addosso? E' il tank, eh? L'hebun, il dragon, il tavas... Se no puoi usare l'armormaster, il bootman... No, cose craftabili. Cose craftabili è l'armormaster... L'armormaster... Ma anche da... Da trial hai bisogno, l'hebun quasi fisso. E' importante... Traffattabile è il tavas, che è buono. Se siete craftabili vanno... Da farmare. Sì, no, ok, no. Dato che a livello 6... Non ha senso. Ah, no. Adesso puoi usare il livello 6. Infatti, il tavas... Tavas è armor, se vuoi. Armormormaster... Con la... Con il... Con il buon... Con il buon uomo... Con il buon uomo... Con il buon uomo... 5 e due pezzi... Con il buon uomo... Con il buon uomo... Qua! Tanto ci rimarrai poco a livello 6. Ma adesso non ti conviene però vestirti da tanti. Lo sferere in un uomo... No, lo sferere in un uomo... Stavo pensando se volessi la donare Nel senso, se ti crafti un Tavax di livello 6, non te ne fai niente, perchè poi non ammatti mob, come fai a crescere? Ti conviene metterti da dd finchè non l'hai tirato su e poi rispiti Oh, evento! Oh, me l'ha rubata! Me l'ha rubata! Sì, che la sta usando la cassa? Questo prendo! Dastardo! Però c'è, l'ho lasciato dentro tipo un covenant e un po' di roba, prendete! No, andiamo alla parte del baggiato, non dirà L'ho preso solo il Tavara DJ, corri di meno! Ah, lei dovrebbe ringraziarmi Perchè? Perchè mi prendo la colpa io di quello che corre di più, altrimenti sarebbe di te Ma io sono qui da appena, sono tutti attaccati Anche io No, poi raga, cioè, si corre Perchè mi fermato Perchè mi fai Perchè mi fermato Perchè mi fermato Perchè mi fermato Quello che c'è passato Oh, verdura Sa che dovete scendere dalle scale Banane Sì, non si passa da qua Se non volete saltare giù Non rischiare No, non volete No, scusate, non di qua Io sono saltato Aspetta, se vogliono fare il coso Abbiamo un boss sotto Abbiamo un boss sotto Accement, accement Accement, accement E' tanteci Siete tutti? Ok No, vabbè, va bene L'importante è non essere 12 Perché in 12 cosa succede? Che non tutti riescono a droppare Molag Ho capito, non essere 12 Non essere 12 Grazie Non è che qui di solito c'è Una cassa ho l'inventario pieno come è un po' di città media media che trovi dentro? un po' di un po' di style motive material lì ruba e guarda tanto ho già preso la tele vabbè a volte ci sono cose belle tipo trovi il motive piuttosto che altre cose che non tiro su ce l'ho già tutta ma servono i motive pack e add mary quelli degli add mary add mary add mary i gialli sono che si portano di un pc giallo e lo facciamo prendere tutte le casse ma è un sorgho scopo magari posso inviare una mail a qualcuno che mi rimandi indietro le cose l'invento sarà difficile perchè siamo in coppia percorso ah no aspetta tu sei compagni no perchè sono livello 6 perchè non mi ero fatto set training e ho detto vabbè si sale lo stesso e si scusa per farla metti molto di più posto sono due mail torniamoci un attimo che siamo un po' spiracciati che tra un po' arriviamo di là e se arriviamo da mora che c'è non rossi e gialli cipure non rossi e gialli cipure non c'è qualcosa è passato roba fondata prendo ste cose da qua che è questo ciccione aspettiamo tutti poi lo facciamo aspettate da grande aspettate al bar servono per comprare un set in questa zona o piuttosto che altre diciamo può andare da un tipo che ti vende un po' di mercenderia varia comunque si usano in imperial city il set che si prende con questi punti ha senso prenderlo o no? alcuni si? no questi tutti no alcuni sono carini poi vabbè se devi seguire la build si prende black crosser si prende reactive no ci sono diverse di build col black crosser reactive comunque black crosser per sempre c'è black crosser il futuro bello eh adesso però lo cambiano un po' eh e va bene la figura ovviamente diventerà più figo perché lo potranno usare anche in magica coltura il black cross per tutti il quarto effetto invece che dare mille stamina darà mille magica quindi diventa un po' più oh che figata davvero eh si perché comunque aumenta sia il weapon damage che lo spell damage e aumenterà sia la stamina che la magica e darà stamina recovery quindi diventa un set praticamente universale pvp tra il set diventi più forte in pvp andiamo a farci facciamo prima quelli laterali poi al centro mhm così intanto scopriamo se c'è qualcuno nell'area ok però se ci facevamo quelli al centro potevamo farci quelli laterali intanto che aspettavamo per spawn infatti stavo per dirlo no andiamo al centro dai infatti oh mi è nati vero che con questo dovevo livellarne occhio che questi qui per lo dico per chi magari non c'è stato tanto quello al centro si il primo pure facile ma poi ognuno di questi portalini qui al centro è più o meno simile a quelli che si incontrano lungo la strada e quelli sono un po' tossi da fare quindi occhio che si arriva no ci arriva solamente eh si no 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 è già morto è già morto occhio che magari non è da solo eh tanto non è che ci possiamo fare molto vediamo al prossimo invece ha riecciso il boss perchè non l'ho visto l'ho attaccato ma era già morto subito si va bene va bene vieni oh ma devo prendere lo sketch Squad Centrale il bosco infatti occhiano ad un agrare anche non aggrave gli altri portali se li aggrave non abbassate i mob sennò poi ci arrivano tutti gli altri boss insieme è vero che siamo tanti però e infatti infatti vabbè rapidamente andiamo a farci l'altro portale tanto questo è finito ok è arrivato prima di molag è possibile è finito perché se arrivano dei rossi ci serviranno per quelli è morta? no no tirate al duro occhio che arriva molagval adesso lo picchiamo quando sta per morire al 10% tutti i melee si allontanano e lo picchiano solo i ranged perché fa una OE molto 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 larga e se ci state dentro vi one shotta tu di marito da shottarlo per cercare io? si i tank in generale no ma tanto abbiamo un DPS della madonna perché siamo tanti quindi picchiamolo ah rosso vabbè muore subito focusate prima al rosso poi andiamo alla gente morta morta ok ovviamente se arrivano giocatori sempre prima quelli eh secco indietro che ha 15 cominciano a picchiarlo solo i ranged indietro 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 che è morto indietro 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 che questa è molto grossa ok ah c'è un gioco che mi ha ucciso sotto di me raga merda compatti compatti e profi maledetto sono scesa di giù c'è il boss mi ha buttata giù eccolo eccolo ho preso questa camp ma c'è un gioco scamp raga gruppo fate gruppo non so di gioco state tutti su di me tutti su di me venite vicino ecco dai almeno questo venite qui che ci sono i gialli faccio preso venite qui che ci sono i gialli tutti insieme qui è un po' vague infatti sulla corona eccolo ce l'ho io mi ha stonata ok ho fatto dove sei daniel sono viva ma mi ha stonata e non ho preso un cazzo e mi ha rubato da telvor maledetto profis l'odio tutte le volte mi fa così vabbè dai li abbiamo ripreso ma non era lui quindi ancora in giro eh occhio allora se avete degli aoe tipo le shard usateli venite tutti insieme ci muoviamo in cerchio ci muoviamo che ci sono qua aspetta un attimo se c'è c'è il giallo nell'aria ci facciamo quello poi facciamo il resto un giallo? eh c'è sempre profi eh o rosso quello che è cos'era? rosso o giallo? era giallo giallo ma... uno l'avete ucciso no? si ma non è profi se era profi non era lui ma chi era io? qui dove l'hai trovato? mi ha ammazzato eh ragazzi voi siete gruppo blu o rosso? blu 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 only two eh potete culparmi? ovvio che si no 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 non gruppatelo ragazzi no allora vabbè potete diventare grande ormai tranquilla Dima me ne faccio una ragione aiuto 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 dove sei? dietro di voi vale dobbiamo muoverci con te ragazzi eh tutti vicino restate lo subito ma che era? non catteggiamo non catteggiamo e questo è veloce e non è proprio un labbissimo non è neanche un fenomeno ma perchè altro streak ti fai ma non streak è un night play neanche ti fai surprise attack dicendo le porte di solito adesso metto una bella skill ma qui ci sono morti sia il rosso che il giallo nessuno dei due ha respawnato ragazzi sono infatti sono tanto troppo sparsi ragazzi non è difficile state sulla corona state gli attaccati così ci muoviamo tutti insieme anche te vai piano piano però ti... eh ho capito ma fino a un certo punto perchè non è che quelli vanno piano a aspettare i comuni nostri facciamoci a portare sopra dai no cerchiamo quello prima perchè se no ci viene a prendere uno per uno mentre noi siamo lì a fare i mob in effetti non respawnano eh? eh no non è scemo bisogna beccarlo con una oe qualcuno sta attaccando in che campagna siete? eh siamo spedreca no è scappato via perchè sta attaccando in moto se scrivi più molag in chatahedra c'è l'auto invite sai? cosa? è andato via perchè sta attaccando in moto eh rossa è molag su giù su giù guarda mordo subito eh ce ne sono un po' nell'aria eh vabbè comunque dai facciamo un portalino sai la don magico quando vedi quanti ce ne sono nooo no non ce l'ho non ce l'ho vedi da tutti sul portale tutti vicino allora il ganker prende sempre quello che rimane indietro per ultimo in questo caso lo vede lo ganka e lo affazza quindi cerchiamo di evitare stare separando ha arrestato l'altro eccoli sono lì ok andiamo 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 una morta una morta l'altro è scappato chi è morto? un green slayer ancora l'altro è scappato? si è solito da giallo è andato via lo stavo guardando contro perché ho visto che stavo restando ci aspettavo che lo restasse però uno dei nostri ieri vivo è morto no noi siamo tutti vivi noi siamo tutti vivi e cercate di stare vicini su radunatevi vabbè mo l'aspetto fatevi un altro portale intanto dai 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 un altro che aspetto che resti ma tra di noi abbiamo di nightly che carino dove ti sei nascosto io sono una dato tu sei con la carta e mi vedi scusa no sono col sorcerer city vedo nigi mi fai vedermi capi beh ci si vede il della barra si vedevo anche di faccina illuminata quanti altro stai nigi sto aspettando che resti il cando ah ok dai facciamoci questo tutti qua davanti aspettate in gare dai dai non ci salimento via 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 medical via via Noi stiamo facendo il boss Quindi occhio Eccolo qua Il boss Eccolo sta grande Occhio E Boh non c'è nessuno Achievements Xivkin Bane Eh non ho dato Il flagello degli Xivkin Eh veniamo ammazzati un tot E' arrivato è arrivato già Eccolo Tienilo 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 Stiamo arrivando Tienilo che stiamo arrivando Mettiti qualche dot Ah merda il portale Ah me l'hai ucciso Eccolo là E' andato Bravo Occhio che c'è il portale da fare qui raga Prima di andare a prendere l'altro Tornate qua Sennò è andato a disturbare l'altro Ma qua che ho preso di qua Tornate 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 Ok 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 ovvio che adesso arriva Speri che Ma speriamo Parco 2 State attenti Non correre troppo i rischi Che ogni volta che morite qua Vi perdete la metà delle tre elvare Ok Era il secondo Andiamo a farci il terzo E' Allora, lascia un po' un po' lì Boss Occhio a questo qua Allora, occhio alle OE che è un po' bastardello Potete farli range ed ovviamente meglio Ok, adesso arriva Molag, attenzione E' bellissimo che c'era l'angolo della... Del sto staffo, tutti da un lato Ok, eccolo qua Ok, che va giù il morto Quando sta a 30 Ok, eh, eh Sì, 32, va bene Cominciano solo i ranger, i melee lontani Ok Via Ok Via 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 Minchia, otto capito Cosmi, tu devi stare... Quando dico i melee Intendo anche te Sì, 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 ma infatti mi era allontanato Ma dove... per poco Ma che sai Oh, mi ha dato 3 gold invece di 2 Figo Eh, figurati Merdone Nessuno ha droppato qualcosa di strano Tipo... Venga Io ho preso prima lo schermo, ma ce l'ho già lo schermo Ma dai Posso passarlo a qualcuno? No Vabbè Andiamo prendere... Io ho droppato questo Beh, erano gialli quindi... Eh, io... Fai un capo Che cosa serve strutturco su qua? Eh, tieni, è una roba gialla Intima Che sarebbe craftare i rifiuti rostate Vale parecchio, due libri Ah, dici, mi aveva mandato alla mail Ma sono l'arrivo, proprio E mi serve tanto quel gear Scudo e... Stivali Scudo stivali e faccio tutto il resto in un'altra mail Facciamo un altro giro di portali Sì, io mi nascondere un angolino Musigaretta Ne farei un altro se avete voglia Così aspettiamo Sì, non c'è due senza tre Eh, tutto quanto gear blu livello 6 Perché sono ancora in combo? Perché... Io ho guardato un po' di gente Ah, ma se deve essere passata dall'altra parte Ho capito perché Sì Però posso nascondermi Sono in combat Ma posso nascondermi Quelli sono tutti chiusi Vedi, ma perché sei l'imperial funnevole? Eh, bello Eh, non ci penso Sì, non ci penso Sì Non so, guardi Lo guardo Ah, mi state accompagnando, no? No, proprio due Vabbè Sì, in effetti sono 100.000 Se non è che becchiamo un'altra zergata come la nostra Siamo in 12 Non siamo ok Sì 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 In 12 effettivamente volendo si potrebbe anche però Ma almeno ancora un giro di mola che poi vediamo Sì 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 Però in 12 fare sopra Volendo si può anche ma non Non è molto divertente perché ho becchi un altro gruppo Però 12 contro 12 a Imperial City stiamo un po' strettini Sì Bene, è l'una, io troppo pieno stacco Sì Sì, mi senti Dai, facciamoci ancora un giro di postari L'ultimo giro di mola che pagnava Dai, tanto qua non ha spawnato niente, andiamo a spezzare mola Chè, è un DD che mi accompagna a prendere due libri Ma dove sono questi libri? Un po' fa poi gli inizi, appena entri nelle prime due stanze Vabbè, si sono vicini Andiamo dopo tutti insieme Andiamo dopo tutti insieme Andiamo dopo tutti Un DD che ti accompagna non ha senso perché Si rischia di morire male in due, basta Ma ci sono solo due ma... Non c'è nessuno Ehm... Ehm... C'è un portale qua Andiamo Non hai mai una bella idea Rosso qua Rosso dove qua? Qua dove? Vabbè, sono troppo lontano da voi Guardi il mio arancio Ma sei dentro con noi e in centro o no? No Ehm... lì Ah, bene Vieni, rossa Oh non ho mai esplosito Tai finito? No, no, ma è esplosito Ah, che si chiamava? Ehm... Doveva venire scritto anche nel... Nell' addon, si Guardate via. No, questo... Atlas Vettiger Come? Come? Atlas Vettiger Ah, quello ci avevamo visto prima No Infatti, che sono in perdita, bene Altro portale della porta opposta Vabbè, passo la sopra per ragione di lui, sennò qui Spero mai più Sì, ti conviene, mi sa Qua siamo sotto la guai Ehm, sì Niente cassa Non l'ho visto certo Ah, poi siamo in dodici No No, magari perché siete arrivati tardi Ah, non spawnati i portali in mezzo, eh, raga? No, niente cassa, io avrei Da noi siamo in dodici Da primo E al centro ci siamo in dodici Perché c'entra che siamo in dodici? Eh, che ero ricerita qui? Eh no, se... eh... Cioè, Molag paga solamente i primi dodici Quindi siamo qui di dodici No, ci siamo in dodici No, ci siamo in dodici I primi dodici del gruppo Sì, ma... Ah Eh, no, in che ora? Non ce l'ho più dire In ordine di danno, di alfabetico, non so In tutti i casi sono ultimi Magari casuale, non so E' di danno che... Ah, ti danno ultimo, c'è qualcun altro Qua Importante Sì, ma infatti no Credo che sia casuale Comunque paga dodici persone Mi vado un po' che cura Io ho l'elementario prima A posto E devo sistemare... E devo sistemare... Lillard Duck and Fall Per portare le PvP di nuovo Ah, ricorda... Venite qui che è già in cazzo Mmm... Stisci? Io sono in cazzo di voi No, quello no Vedete Non ci passi Occhio al negate Vabbè... 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 Insieme Siamo solo un po' attenti Che qualora effettivamente ci fosse qualcuno che... Si ha fatto lo scherzetto Si ha fatto lo scherzetto Io per adesso non ho un problema però E infatti arrivano un casino di moda là eh Sono arrivato il gioco dell'atturato Eh no vabbè... Dio... Il problema sono questi boss qua ovviamente Sì... Non è un problema Non è un problema Non è un problema Non è un problema Dunque se io fossi chi ha grato fare il giro poi al contrario... Perché adesso sta andando... Ma ascoltano intanto... Facciamo semplicemente bene... Cosa... Siamo teniamo solo gli occhi a vermi... Cazzo cazzo Poi... Non dovremmo avere troppi problemi Perché anche se hai seguito qualcuno qua in mezzo muore male e basta Eh... C'è leader con me Poco Chi sarebbe leader? Eh... C'è... Chi? Ci sono danni quasi... Non dovrebbe essere un problema Stanno arrivando pochissime Eh... Stanno arrivando zero pure Ma davvero? Sì... Io sto usando le pozioni di vita A me... A me arrivano troppo Ma... Ma fate con noi? Sì... 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 Perché... Unire solo magari... Eh... Ma siete... Siete dentro nel cerchio? Eh... Sì... Adesso l'ho preso ma perché ero a vita bassa Eh... È una... Di pantaloni È una nuova moda Sì... Perché a me era da rima no A me no Ma proprio... Pochissimi Considera che sono un po' più lontana O c'è un limite di numero più ristretto in... Ma contate che arrivano alla metà delle cure in pvp eh Quindi... Io sono anche abbastanza lontana Vigor non ce la vedete Sì... Occhio... Un breath Ma... Inclusivo Yad Occhio 30% via e me li solo i ranged via 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 tutti via tutti solo i ranged via 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 madonna mirman è morto l'appresa proprio di striscio mirman ma come mai vicino carlo il mondo ho preso qualcosa scampo ok no dov'è ho preso qualcosa sono sicura di aver preso qualcosa hai preso la skin merda perchè è uscito che ho un collezionabile eh avrai lo scampo o la skin io ho preso lo scampo bravi ho preso finalmente lo scamp eh tutti lo scampo ma la skin nessuno eh già io ho preso la cosa piena eh le sante di mettere pieno pure io non so se ne metti vuoto la skin è di vuoto ottimo la skin è di vuoto da quando è uscita imperial city parliamone soul driven non è lo scampo ok oh signor dio ma poi avrà l'idea di quarte volte ho fatto molaglio vabbè volete andare a un po' no 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 con tutte le gira con tutte le fazioni dobbiamo fare la strada per accompagnare tim a prendere libri ma sono qui dietro sono appena intrati e c'è scelta lì ai lì andiamo a meno fino a prendere libri poi piuttosto siamo stati lì andiamo un po' uno di qua un po' va in seguito passa la leader adima sì 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 che la passiamo aspetta eh come mai non mi fa montare a cavallo e poi sì come mai non mi fa montare a cavallo e poi sì perché è un combat ma tanto adesso non si può fare perché staremo dentro no raga ho sbagliato perchè? perchè questo qui è quello di blu no? io non ce l'ho quello di blu beh andiamo c'è un mollager che sta tirando la mattina in aria ma dai guardalo hai visto? ma va ma pensa te non è che possiamo menarlo ancora no eh? che brutto no il fantasma si vede normale era comparso lo fa non è un bug giallo allora ah sì? sì sì è la prima volta che lo vedo così va niente sì 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 beh certo non è quello il moda che abbiamo ucciso teoricamente esatto con teoria siamo ricacciati nelle profondità dell'oblivion non può essere ucciso credo che sono morta alla fine ho perso al contrario dei poveri wamasu che possono essere uccisi no no cioè poveri wamasu non mi ricordare wamasu poveri wamasu eh no ma veramente quella è la tracu del touch e proprio dobbiamo scrivere alla zenimaxe è solo coltraria a questa cosa ah ok tutta colpa di breda no ma la storia del wamasu è veramente stata una cosa cioè a parte che è stato ridicolo perché ma che carino questo wamasu ma che bello ma dai andiamo no ma guardalo che carino il puccio se lo voglio quasi quasi ma che sta facendo ma perché cammina più lentamente o poi è morto cos'è un wamasu? stava anche a me un animale è molto dolce è un lucertolone un lucertolone un petrico ma è carino ma è un petto no no è un modo di un dungeon è anche un petto però è anche un petto ma no è il petto wamasu ma davvero c'è il petto wamasu? mi sembra è un'altra bestia dici? si io non l'ho mai visto scusa no infatti vado a vedere prossimo io mi ricordo un piccolo wamasu rosso no allagimota non ha wamasu rosso dimota chi c'è ragione una specie di beh uomo insamiglia al wamasu ma guarda che ma wamasu molto carino la dimota è una specie di tartarugone wamasu una specie di lucertolone sì una specie di come si chiamano quelli i guanelli i guanelli ah forse vuoi dire i guanelli ci sono i usbane che sono i tartarugoni grossi però i wamasu piccoli non ci sono però le tartarughe di usbane in versione piccola si 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 ah si quelle forse si guardi da con la scena ah i wamasu piccoli dovrebbe essere la doccia craccia ma si uguale il cantano di speranza ma siamo aspettati da ora si ma si diciamo un altro io magari prendo un altro un altro io voglio usare invece intanto pensiamo fa se mi guarda il futuro io non parlo ok ah dove sei? in un cashmere che vanno in giro con le corne ah sei tu ninja veramente peccato te fa tutti fai un travel che stavi correndo con la mappa in mano cosa ci fai qui? stanno andando dalla porta oppure una grate ma per fare? una torna in base e poi stacco ah ok perfetto no 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 no